Le novità sul portfolio Discovery saranno tantissime. La prima e più importante è l'arrivo di Daria Vignardi sul Canale 9 che dal 15 ottobre tornerà a fare un programma dedicato alle interviste che si chiama L'assedio e c'è molta curiosità. Sul 9 sempre vi stiamo su una fascia molto importante che è quella dell'Access Prime Time. Avremo un programma nuovo presentato da Gabriele Costi che si chiama Deal with It ed è un formato molto divertente che va fuori dallo studio televisivo. Poi la cosa più importante è innovare sempre un canale come Real Time che sta andando davvero molto bene. Abbiamo appena lanciato la settima stagione di back-off con record di ascolti abbiamo fatto 1.400.000 di telespettatori e proprio ieri abbiamo lanciato Matrimonio a prima vista Italia un altro esperimento sociale molto nel DNA di Real Time che ha raggiunto un pubblico incredibile, quasi l'8% di share. e poi abbiamo dei grandi ritorni, Maurizio Grozza che torna dopo una strabiliante stagione e abbiamo anche dei personaggi come Chef Rubio e Gabriele Bonci, insomma abbiamo dei grandi ritorni ma anche tante novità.